Che effetto le fa vedere una piazza così e pensare che Silvio Berlusconi non c'è più? Un effetto straneante, oltre alla tristezza ovviamente per chiunque abbia conosciuto la qualità dell'uomo, è un effetto straneante perché oggi per il Paese si chiude indubitabilmente un'epoca basata sulla figura fisica, politica, umana, professionale di Silvio Berlusconi. Tutta la Seconda Repubblica in qualche modo è stata imperneata sulla sua protagonismo e quindi oggi in qualche modo salutando per l'ultima volta Silvio Berlusconi salutiamo anche un pezzo delle nostre vite per come le abbiamo conosciute e comincia un'epoca diversa.